salve a tutti ragazzi eccoci di nuovo con il vostro zura e un ennesima la milionesima tank review non so non so non so quale numero sia sto scherzando che ragazzi obj 430 u l'ennesimo veicolo medio russo di una famiglia di medi russi che si è moltiplicata come conigli producendo cose medie russe uguali a pesanti russi ok è un carro che ha una forma già vista colori già visti uno dei medi tier 10 i medi russi gli overcraft sono i migliori medi del gioco senza ombra di alcun dubbio e qui questo muzzle brake questo frangifiamma di questo cannone ci ricorda qualcosa di particolare non sembrerebbe essere equipaggiato con il cannone del 140 o il cannone del t62a quindi probabilmente questo medio russo ha qualcosa di diverso è un carro anche abbastanza gettonatello abbastanza cool sposta sposta parecchio interesse ultimamente quindi prima di vedere come se la cava su un malinovka noi andiamo a far vedere come se la cava come sempre messo a confronto con tutti i suoi fratelli più o meno gemelli barra cugini ecco qua tutti quanti i russi il super classico bj 140 il t62a la seconda scelta il carro che tutti quanti vogliono l'obj 907 il cucino cinese il 121 a dire sincerità io qui aggiungerei un altro carro per mia comodità aggiungerei il 113 lo lascio lì così va bene lascio lì così poi dopo vi spiego perché ok 430 ultimo arrivo a no aspettate fermi tutti qui ho fatto una manovra di razzismo c'è c'è il povero k 91 il k 91 il k 91 ragazzi non c'entra nulla lo togliamo perché lo stile di gioco del k 91 è diverso mentre tutti gli altri hanno uno stile di gioco molto molto simile cioè sono medi da mischia flanking attacco ravvicinato questi sono medi medi possono essere aggressivi possono sparare a lontano il k 91 è un medio da supporto alla distanza quindi lo togliamo lo togliamo perché probabilmente non è perfettamente coerente danno per minuto è il peggiore tra tutti quanti i veicoli il danno per minuto del 430 o la penetrazione è la peggiore tra tutti quanti a parte il 113 perché ho messo il 113 perché il 113 è equipaggiato con un cannone da 122 mm così come il 121 quindi due cinesi hanno qualcosa di molto in comune con il 430 mentre la famiglia dei si over craft assassini sovietici va con il 100 mm questo cannone questo carro qui ha un cannone di calibro più grande che è una cosa di soldo buona infatti abbiamo un alfa di 440 lo stesso per il 121 e il 113 cinesi purtroppo che succede che questo questo carro ha come proiettili standard proiettili ap a posto degli apcr quindi la velocità di volo del proiettile fa schifo cioè fa schifo è standard però fa schifo in confronto a il cannone laser montato sul 140 di 62a e obj 907 quindi oltre ad avere molta meno penetrazione con proiettili normali la velocità cala moltissimo in situazioni difficili può contare su proiettili premium da 340 di penetrazione il 920 di velocità di volo e qui le cose si apparano con con gli altri perché gli altri pure mettendo le hit la velocità di volo cala moltissimo però direi che come firepower è il peggiore tra tutti quanti i cinesi pure fanno meglio del nostro obj 430 u passiamo ora al gun handling e qui come possiamo vedere il gun handling del 430 u rispetto agli altri medi 907 di 62a e 140 è il peggiore tra tutti quanti il più lento tempo di puntamento però migliore del cinese e migliore del pesante tra un po capirete perché ci ho messo il pesante cinese 038 la precisione è la peggiore di tutti quanti con il t62 a che è veramente un'arma chirurgica anche del 140 e 907 il cinese niente ha fatto male 034 addirittura il pesante 113 è più preciso del 431 le dispersioni muovendo il carro ruotando il carro e ruotando la torretta sono in linea con quelle del 907 il t62a il 140 hanno un miglior gun handling qui il 131 cade un pelino dietro ed unito a questo probabilmente probabilmente è il carro con il gun handling peggiore dell'otto perché di qua abbiamo un set di gun depression che non è affatto male comunque sia il miglior gun handling è assolutamente quello del 140 super preciso poco dispersivo con più a basso poi il t62a poi il 907 e poi dopo abbiamo 430v e 113 quindi non ci sono grandissime buone notizie neanche dal punto di vista del gun handling che comunque sia è discreto e nulla di più comparto mobilità e anche qui sul comparto mobilità 50 chilometri all'ora con 14 rapporto peso potenza resistenza dei cingoli più accentuate rispetto agli altri cucini sovietici rotazione della torretta più lenta rotazione del carro più lento tutti gli altri medi overcraft assassini russi fanno meglio del 430v che risulta essere il più appesantito è più lento molto più vicino a un 121 che ai russi ok addirittura il pesante cinese con un rapporto peso potenza 1667 quasi scatta meglio che dopo viene zavorrato da resistenza quindi non è non ha la stessa agilità perché è un pesante non è un meglio però per dirvi che questo 430v sulla carta crea un po di disappunto sia come firepower che come gun handling che come mobilità è un po l'ultimo della classe quindi questo 430v è stato inserito sembra un super fiasco però attenzione attenzione che qualcosa di particolare il 430v da mettere sul piatto ce l'ha abbiamo un buon valore di punti ferita per un medio al top tra i medi 2000 e abbiamo su carta dei valori di armatura che sono veramente eccezionali sia frontalmente che lateralmente con la torretta che raggiunge dei valori veramente impressionanti quindi il pezzo forte il piatto forte per quello che riguarda il 430v è senza dubbio il comparto dell'armatura vista nella normalità e fire chance ridotta comunque sia attenzione attenzione che il motore è posizionato sotto al muso quindi nonostante il 10 per cento il muso del carro che è quello che tende a prendersi un botto di colpi di solito è si può rischiare di prendere fuoco con questo carro nonostante i 10 di fire chance veniamo ora al suggestive equipment che cosa ci mettiamo su 430v ventilazione caricatore stabilizzatore verticale massimizziamo tutto la vista di per sé non va a valori importanti ovviamente le ottiche sono una scelta probabilmente migliore della ventola però considerando l'attitudine vedremo tra un po l'attitudine da medio da corta distanza perché abbiamo visto che il cannone è un po sbananato la mobilità questo va questo sembrerebbe essere sulla carta il figlio dell'opg 140 degli s7 guardando la comparativa è molto più un 113 con bandiera sovietica che un fratello del 140 ok e tra un po andremo a vedere anche perché i 5 gradi di grande presso non sono a 360 gradi ovviamente se avete un buon equipaggio e il cibo premium riuscirete assolutamente a massimizzare a massimizzare i vostri risultati e potrete rinserire la ventola riuscendo a cappare la vista questo qui è senza ombra di dubbio il setup migliore per devastare il prossimo e mitigare anche un po le dispersioni eccetera eccetera andiamo ora a vedere diciamo l'unico lato importante c'è l'unico lato che distingue questo caro dagli altri perché si ragazzi incontrando il 430 dritto per dritto in pianura ci troviamo di fronte a una specie di fottuto mostro maledetto perché la lower plate wix pot e queste su tutti tenete conto che il carro è basso una soglia è una soglia letta è la torretta reazzi è la torretta è veramente la torretta è veramente un qualcosa di è veramente un qualcosa di affidabile solo lo giappanzare 100 e qualche cacciacarro cattivissimo con i proiettili premium mi può sfondare le guance altrimenti gli altri sono costretti a spararvi sulle cupole e io vi sconsiglio di farlo perché questa qua è una trappola è una trappola arrotondata che rimbalza praticamente quasi qualunque cosa quest'altra la cupoletta questa con i visori i visori di avvistamento è leggermente meglio perché ha una zona e comunque sia richiede proiettili premium a profusione evitate di sparare sono cose piccole e molto difficili da colpire la torretta è potente anche lateralmente a una corazzatura frontale mostruosa quando lo incontrate di profilo utilizzate la parte posteriore della torretta dopo di che abbiamo uno scafo leggermente av che in parte ricorda quello dell'obj non è molto simile a quello dell'obj 140 questo carro va giocato preferibilmente con questo angolo di 30 60 giocato in pianura in 30 60 abbiamo un lato che è completamente auto bounce la parte sopra che raggiunge 270 280 può rimbalzare colpi standard praticamente di chiunque se non spara se non vi arrivano gold questo medio rimbalza proiettili provenienti da praticamente quasi qualunque cannone del gioco solo proiettili premium o è un cacciacarri 299 a panzer oppure ecco poi cambiando gli angoli anche così la parte alta qui rimane auto bounce e qui il cofano va oltre i 300 all overplate è tutt'altro che debole durissima per i tier 8 questo carro è in grado di sgranocchiare tier 8 come fossero biscotti ok i suoi cinque gradi di grande pressione non gli permettono di andare null down bene ma se per sbaglio trovate una collina piccina picciò e riuscite a fare appena appena capolino in questa maniera qui non vi fate ingannare dal verde perché ci sono due strati di armatura uno sopra un altro qui non si entra il carro ha un'armatura veramente spettacolare superiore anche a quella del 907 è un affare duro 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 che personalmente compete con il 113 e anzi anzi questo è più duro mi sembra anche a sensazione più duro del 113 ecco perché ci è sul 113 perché il carro che gli assomiglia di più di tutti non è un cucino non è il cucino medio no il carro che gli assomiglia di più di tutti ragazzi è il 113 andiamo a vedere come se la cava su malinovca in un matchmaking dove ci sono i tier 8 e i tier 9 quindi un matchmaking estremamente favorevole ovviamente io sono abbastanza una scimmia con questo carro probabilmente questa qui era la mia terza partita della quarta partita però qualcosa di decente è venuto fuori non grazie a me quindi anticipiamo già anticipiamo già che io ci ho messo relativamente del mio diamo la spinta al 430 o nessuno va in collina guardate il guido che sembra una scimmia ovriaca sto cercando di tirare un colpo a questo ragazzo posizionato centro mappa con il pesante inglese e mi prendo qualcosa di danno da spot ho la vista cappata anche senza utilizzare il cibo premium non ho messo il cibo premium perché ancora non me lo posso permettere non sono così non sono così facoltoso presumo che il cibo premium sia una delle armi molto valide da inserire in questo carro che ha delle debolezze rispetto alle altre controparti sovietiche e potrebbe dargli veramente quel plus in più perché è impreciso la rosa è grande i proiettili sono lenti da questa distanza io sto sparando a 445 metri è buttare via i proiettili onestamente onestamente il cannone di questo carro non è entusiasmante giocato a corta distanza può fare di meglio comunque sia non ho perso tempo prezioso non riesco ad andare in città metto a segno un buon colpo sul centurion action x vengo spottato in rimbalzo il primo colpo di un 54 leggero che cerca di di bucare la sulla carta ottima armatura del 430 un altro colpo laterale come vedete la torretta rimbalza i colpi no che ho già detto la parte anteriore e rimbalzo anche un colpo del centurion action x che sono 268 minimi di penetrazione rimbalzo un colpo del 907 una gold una gold 330 di penetrazione rimbalza tranquillamente sul cofano l'angolo di questa armatura è assolutamente cinico ed efficace in questa situazione qui e purtroppo non possiamo stiamo già perdendo 4 a 0 la partita è una partita probabilmente persa qui sparo rimbalzo un colpo su action x la situazione è drammatica siamo sotto 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 5 a 0 è un massacro ci stanno ci stanno facendo a pezzi l'unica chance che ho è cercare di tenere questa posizione e vedere se riesco a fare qualche danno purtroppo i proiettili standard non entrano ma se non prendo almeno spotto spotto e sto rimbalzando proiettili hit proiettili del centurion con con efficacia la partita è orribile non ho fatto niente ho subito ma l'armatura del carro l'armatura del carro mi sembra mi sembra efficace mi sembra dannatamente efficace mi è sembrata molto buona sulla carta e adesso che sto subendo colpi su colpi vediamo se riesco ora con con proiettili con proiettili premium con proiettili premium in canna riusciamo a sfondare la torretta del centurion x ed ecco che arrivano i primi colpi mi entrano i primi colpi vediamo dove sono uno mi è entrato sul fianco eccolo qua ci sta e il secondo non si sa dove però ok mi viene mi viene danneggiato subito un modulo quindi fragilità la fragilità identica a quella degli altri carri se venite colpiti su questa zona qui perdete la stiva munizioni ok quindi altro lato negativo la parentela con con gli altri medi russi c'è avanzano avanzano molti nemici ci pressano cerco di mantenermi più un down possibile come vi ho detto questo carro se riuscite a nascondere il pezzo sotto può essere frustrante quello è un defender uno bj 252 u con 265 di penetrazione dei proiettili premium non ha chance non ha chance di danneggiare questo medio sovietico posizionato in maniera idonea intanto il t54 leggero è passato e ha afflancato e ucciso il mio compagno ora io bancho un colpo bancho un colpo sull'altro defender però sto continuando a spottare per adesso duemila e tre assorbiti mille e cinque di spot e duemila e due fatti nel nel disastro della partita iniziale tutto sommato io sto mantenendo la posizione grazie a la vista valida in questo caso maxata ora con i proiettili premium cerco di bucare la parte flat la parte piatta delle guance del defender che è rimasto incastrato in questa posizione qui non si può muovere quindi è la mia chance piano piano di cercare di rosicchiarlo spottarlo e toglierlo da lì perché altrimenti io non posso muovermi come io spotto lui no ecco qui sbaglio ho tirato nella zona bassa il proiettili rimbalzato sullo scafo e rimbalzo un altro colpo del 907 che si è stancato di tirarmi le gold ora ci si mette l'artiglieria artiglieria quella funziona sempre non pensate che l'armatura di questo carro seppur buona possa salvarvi dalla super maledetta arteria prima ho sbagliato so che devo mirare alle guance della torretta non troppo in basso perché c'è lo scafo molto angolato esatto è proprio lì un altro colpo 456 guardate come il cannone dalla distanza ravvicinata fa il suo dovere perché 440 di alfa è un è un signor danno è il danno di un pesante quindi questo veicolo medio effettivamente è il figlio dell'is7 del 140 al momento perché ha quella mobilità gne gne ok a questi proiettili sbanano lento forse colpisco qualcosa se l'rng vuole ma sono russo e quindi è molto is7 questa cosa sparo speriamo che sparo speriamo che colpisco no perché il 140 è assolutamente chirurgico la forma è quella del 140 la velocità è una via di mezzo quindi ho un 50 per cento di mobilità un 50 per cento di abilità l'armatura è un mix superlativo tra gli s7 140 la vista pure un mix ed è veramente il figlio di questi due carri un ibrido un ibrido che personalmente ritengo estremamente efficace in in random perché abbiamo gran parte della sostanza dei medi overcraft sovietici ma abbiamo anche un'armatura che funziona bene 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 quindi questo qui è un carro che potrei consigliare a tanti giocatori inesperti cioè se uno dovesse giocare un medio probabilmente questo è il medio che dà la possibilità di effettuare una performance efficace alla più grande parte del server europeo ora qui ho tentennato forse avrei dovuto sparare ma ero ero in mezzo stordito anzi ho anche il il replay segnala un servente capo ma probabilmente non è così che vedo hanno otto secondi e 61 di ricarico quindi c'è qualcosa che non va va bene comunque sia il leopard pta va a casa abbattuto dall'artiglieria la partita che sembrava drammaticamente persa è ritornata in equilibrio perché siamo 6000 pari e questo cavolo di 430 u ha fatto quasi 4000 danni 3000 spottati 3000 assorbiti ora nonostante la sua sbananaggine toglie un altro toglie un altro carro un altro giocatore un altro giocatore pericoloso perché il cos'era il conqueror abbiamo tolto un conqueror quindi via via un altro giocatore assolutamente fastidioso dal dalla mappa e adesso rimane rimane da vedere se riusciamo a forzare per portare a casa il risultato visto che siamo in parità e dalla tragedia siamo portati in parità inutile attaccare la collina con 907 mi dirigo da quest'altro lato per cercare di abbattere un mauchen che è sicuramente più vulnerabile più facilmente spottabile dal mio sneaky basso low profile quando però incontro un imprevisto un colpo al volo fortunatamente magica pula bidibibodibu guardate l'armatura si mangia 295 di penetrazione di un love che mi tira le gold poi dopo il love si mangia i miei proiettili standard va bene love gran carro l'artilleria mi aiuta altri 500 danni da spot tiriamo un blind sulla fiducia al love che in teoria poverello è rimasto è rimasto bloccato lì dietro ora posso mettere pressione c'è sempre un mauchen che mi guarda l'armatura di questo veicolo è assolutamente assolutamente efficace per ora un altro colpo che non va a segno però io continuo a rimbalzare colpi del love l'arti mi tira ora passiamo alla vista in prima persona cerco di sfondare le guance dell'ove ma becco colpisco il mantello due volte devo cercare di togliere questo carro che mi sporta continua a sparare ma la torretta dell'ove non sente ragione intanto il mio carro ha rimbalzato la terza a pcr dell'ove quindi allora il cannone ragazzi è uno sbanano però l'armatura non non è malvacia perché ecco a questo punto leggo 4600 danni 4500 da spot 4000 assorbiti leggo 4000 ovunque questo affare è è un è quel cocktail buono ragazzi è quel cocktail buono non è non è è fatto con gli ingredienti giusti no vi presentano ti presentiamo qualcosa di nuovo entri al bar no assaggi questo cocktail è una novità però dici è però è molto simile a quell'altro no no ma c'è questa diversità c'è questa e quest'ata lo assaggi ha ragione sembrava simile a quell'altro ma è un buon cocktail mi piace mi piace poi il suo gusto delicato non è troppo alcolico no questo è un cocktail che piace a tante persone e sì questo è un cocktail che sicuramente piacerà a tante persone magari il carro clown war ragazzi intanto il motion va a casa quarta kill 5.400 danni una valanga di spot magari mandiamo più veloci replay perché la partita ormai abbiamo visto come abbiamo visto che siamo riusciti a rimetterla in barca ok magari il carro da clown war resta l'ovice 907 sicuramente però ragazzi questa è una seconda scelta un po tipo il 140 140 è un carro spettacolare io personalmente mi ci trovo meglio è quel grado di abbasso in più e quel cannone che funziona no ok l'artilleria si suicida togliendomi la goduria di continuare a infliggere continuare a infliggere punizioni e magari portare portare a casa un risultato ancora migliore andiamo a vedere le nostre post gaming stat ok fenomeno moltissime medaglie minori muro d'acciaio muro d'acciaio ovviamente grosso calibro con 5.400 danni 1.400 esperienza nulla di che quindi probabilmente in questo momento non stanno giocando molto questo carro avevo doppie riserve accese quindi non fate caso alla svalangata dei soldi che sono arrivati però quest'affare è veramente il punto di giunzione tra un pesante veloce e il medio super potente dicesi obj 140 è un buon carro non è un buon carro è un ottimo carro sulla carta avrei detto che il cannone mi avrebbe fatto arrabbiare che la mobilità non sarebbe stata sufficiente che il volume di fuoco sarebbe stato non all'altezza però non è che è tragica la situazione non è al pari dei mostri russi è vero ma quello che ho perso ho perso un 10% qua perso 10% qua perso 10% qua ho preso un 50% d'armatura è un fottutissimo incudine con un cannone che tira delle pizze da 4.40 cavolo se è buono questo carro qualcuno dice che prende fuoco facilmente io ve l'ho buttata là come minaccia però 10% di fire chance magari con un meccanico pignolo potrei correre il rischio di togliere l'estintore e di andare di cibo premium per vedere qual è la reale brutalità di quello che è senza ombra di dubbio per me uno dei migliori carri di world of tanks al momento ok ragazzi anche per questa review è tutto il vostro zona vi saluto dove appuntamento alla prossima come sempre non dimenticate il vostro like non like commenti chi più ne ha più ne metta ditemi se andate a fuoco con quest'affare che almeno mi metto l'anima in pace noi ci vediamo qui su youtube alla prossima oppure live streaming twitch un saluto anche da luna che è sopraggiunta in questo momento ciao ragazzi